Nuova importante tappa, questa volta l'Atter consegna ancora nuovi appartamenti. Allora, quanti e come avverrà questa consegna? Ne parliamo con il Presidente Passerelli. Allora, salve. Gli appartamenti sono 21, si trovano in Via Falda, sono di edilizia agevolata. L'edilizia che mira da 21 reddito, che rientra tra una fascia di reddito lordo tra i 22.000 euro annui e i 44. oggi verranno consegnati gli ultimi 8 appartamenti. Per quanto riguarda l'edilizia agevolata, che secondo me è l'edilizia che ha un numero di richieste maggiori, ci stiamo attivando. A settembre riapriremo il nuovo bando per acquistare edifici completi o in fase di costruzione, come abbiamo fatto in questo caso di Via Falda, da poter consegnare rapidissimamente a chi li richiede. Possiamo chiarire che cosa è esattamente l'edilizia agevolata? L'edilizia agevolata è l'edilizia che viene rivolta a famiglie aventi un reddito. Diciamo, la fascia è quella che avevo appena detto, dai 22.000 ai 44.000 hanno i lordi del nucleo familiare. Praticamente sarebbero più o meno 1.300-1.400 euro mese di stipendio. In questo modo noi riusciamo a dare appartamenti di 70, 80, 90, 100 metri quadrati dalle 300 alle 400 euro mese di affitto. Al terzo anno apriamo una prima call di vendita e vengono effettuate le vendite al prezzo nostro di acquisto. Noi non ci dobbiamo guadagnare un euro. Quante sono le domande ad oggi e quando si apriranno le nuove bandi? Le domande sono tantissime. Abbiamo fatto una gradatoria, in questo caso nell'agevolata la gradatoria la fa l'ATER, non è la gradatoria comunale. Le richieste sono infinite, infatti per questo apriremo il nuovo bando su tutto il territorio, Civitavecchia, Tolfa, Lumiere e Santa Marinella. Il nuovo bando, entro la fine dell'anno, ripartiremo con il nuovo bando per la ricerca di alloggi. Per noi è un successo, è il coronamento di un percorso positivo. Nel momento in cui l'ATER e quindi la regione riesce a dare le chiavi degli appartamenti alle persone, significa che abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto anche in questo caso un eccellente lavoro con l'ATER di Civitavecchia, quindi per me era oggi importantissimo esserci. Ovviamente è importante vedere anche in faccia le persone che aspettano questo momento molto molto importante. Il tema dell'emergenza abitativa, del bisogno di casa, è diventato sempre più un fenomeno vasto, importante. E quindi riuscire a dare dei segnali e delle risposte puntuali a questo bisogno delle persone è per l'istituzione un impegno imperativo, da cui non ci possiamo sottrarre. Grazie. 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 Grazie.